Papa Francesco ha espresso riconoscenza agli organizzatori della mostra Antiquorum Abet sulla storia dei giubilei tenutasi lo scorso anno in Senato durante l'udienza in Vaticano. Alla delegazione accompagnata dal presidente di Palazzo Madama Pietro Grasso, il pontefice ha ricordato che dal 1300 in poi ogni giubileo, dal primo indetto da Papa Bonifacio VIII con la bolla Antiquorum Abet, ha segnato la storia di Roma, sia nell'architettura, nell'arte, nella realizzazione di strutture caritative e di accoglienza. Non va mai perso di vista, ha ribadito Francesco, il cuore di ogni anno santo. Nel giubileo si incontrano la bontà di Dio e la fragilità dell'uomo, che ha sempre bisogno dell'amore e del perdono del padre. Infatti è proprio di Dio usare i misericordi e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza. Concludendo l'incontro, il Papa ha chiesto di continuare a trarre dall'esperienza giubilare i frutti spirituali abbondanti e duraturi ed ha poi assicurato le sue preghiere per svolgere al meglio il loro lavoro e l'alto servizio istituzionale al quale sono chiamati.